Musica Uè ragazzi, buongiorno praticamente sto in macchina ho fatto alcuni servizietti ho acceduto alla mia scuola elementare quando ero piccolo si chiama Giambattista Vico la stanno mettendo a posto qua in ordine e tante belle cose mamma mia ho acceduto alla scuola media si chiama la Ugo De Carolis ed è sempre vicino vicino alla scuola la Giambattista Vico sono ricordi ragazzi sono ricordi ora ve la faccio vedere perché aspettate aspettate praticamente questa è la via 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 praticamente la scuola è questa vediamo se riesco ad andare dentro no dentro la scuola ovviamente dentro la via questo qui è il Nitti era il Nitti era il Nitti che era la scuola superiore praticamente questa qui è la De Carolis vabbè si è un po' la stanno rifacendo istituto scuola media statale Ugo De Carolis pure qua quanti ricordoni quanti ricordoni eh ricordo che non c'era no c'era la palestra non ricordo o la fecero dopo si che la inaugurarono forse era il primo anno e si arriva sopra poi c'era vabbè no però la cosa bella è che quando entri nelle scuole quando vai a votare senti quell'odore di matisse di quaderni e ora siamo arrivati a trent'anni e ho l'odore bass l'odore bass l'odore bass e sulle boutique che stai facendo per i due i due i due i due i due significati no ragazzi buonasera maria io esco maria io esco oia cioè no ma si invece si facciamo capire gli amici dai niente praticamente stavo vedendo reazioni a catena e ma avevo capito una cosa per un'altra io da io so che le due frasi quelle di sopra hanno due due significati diversi con un'unica parola però pensavo che fosse corallo la la soluzione invece era cornetto io pensavo il cornetto alla crema cioccolato ho capito però pensavo da come le aveva detto amadeus pensavo che avevano sbagliato ciao comunque ragazzi è una bugia praticamente novità abbiamo messo la tv nel salone è venuto il tecnico ci ha installato l'antenna il filo ci ha bucherellato il muro e poi quando è rifinita bene ve la facciamo vedere ve la facciamo vedere no? certo e poi non è vero che io malcatto lucia non è vero non è maltrattare no nel senso verbalmente perché nel caso in cui tu mi maltrattassi non avresti più vita eh preguntas ahahahah ES non avresti più vita viene credo che lucia è la figlia di certo che이를 capito che lでした rich Obviously è vero che adesso si fa la mucca ringrazio che mi sono andato nelle mani ma chi? chi ha fatto la domanda? ahahahah di nuovo beh, abbiamo cominciato una cosa è andata là e Renzi non alzerà l'IVA non l'IVA, l'IVA l'IVA è detto l'IVA, ho detto l'IVA l'IVA, oh che terremoto ah, l'IVA mamma mia ragazzi che brutto periodo è brutto sì è brutto sì va boh va boh domani il VIA gli azzurri in Francia uè ragazzi siamo a Ninna mi si vede? si chiediti stavano a Ninna ragazzi guarda che è? guarda inquadra eh inquadra allora oggi è stato sì oggi abbiamo visto diciamo diciamo abbiamo visto un nostro video il video il video random che abbiamo visto cioè ed è capitato il video 150 no cosa? che numero di video era? no non lo so no comunque non era 150 un video di marzo dell'anno scorso ragazzi 15 minuti di video 14 minuti e mezzo parla solo lui a chi deve parlare? noi e te ne andiamo esce il disco no ma lo dovete vedere perché si vede no che termina il video non alla fine nel senso no ok ci vediamo dopo si riaccendono le telecamere e chi esce? esce sempre lui e ragazzi si che poi andatevelo a vedere il titolo è si zappa la terra si zappa la terra si zappa la terra andiamo a zappare andiamo a zappare andiamo a zappare cioè dalla mattina un'ora e mezza ho zappato si è stancato si è stancato fino alla sera prima di andare a letto e ragazzi che dire ho già zappato la terra cioè alla fine quel video è stato cioè parlava solo lui solo di aver zappato la terra chissà quanto lavora e chi deve parlare ragazzi chi deve parlare è ovvio che devo parlare io no? io il re il principe il re le scarpe ma anzi te che si è successo pure a me il flash che si è ah mo si che siamo a San Siro a San Siro tu illumini me io illumino te si e tu tu e tu illuminati ha detto tu metti la luce a me che io la metto a te fino adesso come ce la vivi il telefono? e la scarico? no così è illuminare te eh? tu hai detto tu illumini me e io illumina te no ma come ce l'hai detto la otto ce la? no c'ho la parte di te e te che male ma buon ragazzi prima che inizi a dire fragnace fragnace eh si perché le fragnace le dici tutte le serie invece la fragnace è proprio grande ma si si la giusto è vi ricordo che il video di ho città il crack ahahahahah ahahahahah ma non parlo più eh meno male che stanno donando pochi video pochi minuti meno male sono che palle vado a gio fare eh ma c'era qualcuno che gli piaceva quando il video era lungo eh intanto che ora è sparito mo è sparito non commenta più è diventata la sociale vabbò dai che si dice nella vita nella vita come si dice si va avanti c'è chi viene e c'è chi va e c'è chi va a zappare la terra e c'è chi va a zappare come me la terra iscrivetevi, commentate e condividete mi piace, ciao ragazzi, a domani ciao